L'undicesima stagione dell'Associazione Musicamente di Palermo si è chiusa ieri sera all'Oratorio di Santa Cita con il concerto dell'Arianna Art Ensemble diretto dal clavincembalista e direttore d'orchestra palermitano Ignazio Maria Sclafani e con le voci di Luca Dordolo, Anastasia Terranova, Martina Licari, Deborah Troia e Aurora Bruno. E' stato eseguito l'Oratorio San Casimiro Re di Polonia composto da Alessandro Scarlatti, un progetto frutto di una collaborazione tra l'Associazione Musicamente, l'Istituto di Cultura Polacco, l'Associazione Musicale Etnea di Catania e il Festival Magie Barocche di Noto. L'Oratorio San Casimiro Re di Polonia fu composto da Alessandro Scarlatti a Roma per la regina Esule Maria Casimira di Polonia e probabilmente eseguito per la prima volta il 12 settembre 1704 a Palazzo Zuccari, residenza della sovrana in città. La trama narra delle lusinghe di Amor Profano e Reggio Fasto che a colpi di sfavillanti arie virtuosistiche tentano di piegare la virtù di Casimiro che cristianamente segue invece i dittami di castità e umiltà. Per l'occasione hanno composto l'Arianna Art Ensemble, Valerio Losito e Raffaele Nicoletti e Violini, Andrea Lizza Raga alla Viola, Andrea Rigano al Violoncello e Lamberto Nigro al Contrabbasso, Paolo Rigano all'Arciliuto, Silvio Natoli alla Tiorba e Cinzia Guarino all'Organo.